amici carissimi del tino carogati ben ritrovati come sempre sulle frequenze di youtube con il mio pianoforte leggero a dire la verità non si tratta oggi di una lezione di pianoforte vera e propria o meglio vorrei cominciare poi non so se andrò avanti con questa cosa perché la mia vuole essere un'esperienza un tentativo vediamo un po come va nel senso che vorrei proporre dei tutorial che ho pensato di chiamare baby tutorial rifacimenti cioè di brani famosissimi ovviamente e fatti in modo estremamente facile scolastico perché mi sono forse reso conto che a volte un pochino esagero con la difficoltà delle lezioni dei messaggi alcuni di voi li percepiranno senza problemi ma sono anche abbastanza convinto che ci sia gente invece che forse ha anche bisogno di queste cose come questo baby tutorial che visto che ci stiamo appropinguando al natale ho pensato di farlo rendendo omaggio al grande john lennon e la sua merry christmas the world is over intanto è che lo facevo oggi no tenta per dirvi no il livello comunque che vuole essere proprio basico nel senso che imparare un brano più semplicemente di così la vedo veramente difficile perché lo vedrete questi tutorial vogliono essere proprio semplicissimi quindi farò un basso con la mano sinistra e la melodia con la mano destra voi sapete che i miei tutorial si sono sempre basati invece su un'imponta molto a livello di stile accompagnatorio più che altro no no questi tutorial vogliono essere un po una cosa diversa dagli altri e appunto dedicati a coloro che sono agli inizi o che vogliono cimentarsi riprendere magari un piano forte lasciato tanti anni fa quanti di voi mi scrivete tino guardando le televisioni mi è venuta mi è rivenuta voglia di suonare il piano forte la cosa mi fa molto piacere ma vuol dire che c'è molta gente veramente che ha avuto un approccio con il piano forte forse sbagliato forse in tempi non congrui con i propri non lo so ma tanta gente che ha lasciato il piano forte che lo riprende magari ad una certa età e mi rendo conto che dovendo riprendere certi discorsi certi approcci possono risultare non facili vi stavo dicendo che mentre facevo questa cosa e nello studio del dormitorio no intanto quella cima dell'Abdul no che mi ha sentito fa il go ahhh gli fa Senti grande Gesista c'è che grande Gesista c'è che c'è i cretino ma te sei proprio ignorando no queste qui sono lezioni per i principianti va 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 lavorare così perché sennò dopo mi fa inversare che lo so che la Brun è così però è anche un bravo ragazzo allora non Non parlo più perché al solito comincio e dopo non smetto. Quindi vi lascio questo tutorial, questo baby tutorial numero uno e poi iscrivetevi, iscrivetevi cosa ne pensate. Ripeto, è dedicato a John Lennon e alla sua Merry Christmas, the war is over. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.